Sembra passata un'eternità, da quel 17 febbraio, giorno del tuo esordio al Francioni di Latina, ma sono passati solamente pochi mesi. Andre Orlandi è giocatore del Novara. Le impressioni quali sono, Andre? Sicuramente molto felice di essere qui per questa nuova stagione. Era il mio obiettivo da quel giorno lì, o anche da prima, dal giorno della firma del contratto. Volevo rimanere sicuramente un'altra stagione. È stato così e sono veramente felice di affrontare questo nuovo challenge con il Novara Calcio e speriamo di avere una stagione veramente importante. Il tuo contratto è stato tra i primi firmati dal Novara, insomma, in vista della prossima stagione, segno di una grande fiducia da parte della società. Sì, sicuramente sì. È una cosa che mi fa molto piacere. Il direttore, prima di andare via, già mi aveva un po' rassicurato della situazione e quindi sono andato in vacanza abbastanza tranquillo e felice di questa cosa. Quindi sicuramente è un attestato di stima e apprezza da parte la società, ma anche una responsabilità perché sicuramente loro si aspettano tanto da me e io sono pronto per farlo. È presto per le impressioni sul campo. C'è stato solamente tempo per una sgambata. Questo pomeriggio già si torna in campo, forse in maniera più approfondita, agli ordini di Mr. Corini e del suo staff. Le prime impressioni sui nuovi compagni come sono? Beh, i nuovi compagni, molti già c'erano, quindi erano in prestito in altre squadre, ma sicuramente guarda, l'ambiente è sempre positivo. Era già l'anno scorso e quest'anno tra di noi stiamo parlando di continuare a creare empatia nello spogliatoio perché è importantissimo, dopo dopo si vede in campo. Quindi anche quest'anno sembra che l'ambiente sia positivo, lo sarà sicuramente e noi lavoreremo perché così sia. Sarà una stagione diversa per te, per una questione proprio logistica. potrai vivere il ritiro qui in Azzurro. Quali sono le tue aspettative sul prossimo campionale di Serie B? Beh, è importantissimo compartire con la squadra, lavorare bene dall'inizio, cosa che non ho potuto fare l'anno scorso, quindi lavorerò solo nel ritiro e fisicamente mi sentirò sicuramente meglio. L'obiettivo mio è sempre di far meglio e sono sicuro di poter farlo. Quindi già da ieri siamo partiti a mille per fare una grande stagione. Dopo la tua permanenza, dopo l'arrivo di Ronaldo, si intravede un centrocampo di grande qualità. Come piace a mister Corini? Beh, sicuramente lui come calciatore è un centrocampista di qualità che a noi centrocampisti ci aiuterà a crescere e ci migliorerà. Non vedo l'ora di lavorare con lui e di imparare. Con i giocatori che già c'erano, più l'acquisto di Ronaldo, sicuramente è un centrocampo ottimo per la categoria e speriamo di farlo vedere in campo, che è la cosa importante. Grazie a tutti.